musica 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 bella bella sono fin siamo tornati qui con un nuovo gameplay intanto per fare un intro un po' diverso una nuova giocata anch'io nel senso di nuovo io che gioco siccome non ho giocato per tanto tempo allora va subito col cecchino lì becchi tutti mamma mia te fai la triple fai così oddio oddio ma come sei ma chi sei mamma mia fai come a me mamma mia comincia subito forte Xenic incredibile no dai non posso risciarlo così andiamo 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 che dobbiamo fare la chem si la chem col cecchino la chemi si eccolo no vabbè ma dai però dopo quello che hai fatto non mi puoi infatti me ne so deconcentrato un attimo si vabbè ma tu non puoi sparare così a buffo e piatti a tutti ahahah quelli di bag la strage all'inizio e poi dopo non mi ammazzi nessuno cioè dai guarda queste sono cose da principiante semmo l'omba che che le fai testi cosi eh certo comunque c'è non abbiamo detto un cazzo c'è migrana se non è un nuovo video ormai siamo su una partita con due su dominio vabbè penso che la classe grazie quando si facevano i bei bei i bei i dai si il programma ricordi oh mortale i bei vecchi gameplay dove all'inizio si diceva rigorosamente la partita e poi la classe che aveva scelto quali erano le tecniche non mi interessava a nessuno poi qualcosa altro eh beh c'è un po' di nostalgia la nostalgia di che ma se che cosa e quando facevi il finto pro player si non ricordo ma ricordi 4 anni fa mi era perso il mio canale e poi non mi portava avanti io sto sto su youtube da prima di tutti c'è no vabbè no vabbè oh come sa coltella qua ahhh questi bar ah giusto perchè c'è non c'è il tattico si si ma non ha coltellato ho perspinto cerchio non ha coltellato comunque complementi per questa morte da sota scemo con l'asera fatta due risate eh ho capito ma non posso fight market da 2 metri in lupio sottosso ma dai ma tuoi ammazzò c'è te il bambolo del culo lo faccio tutte chiudere farite fai comunque posso fa un po' di e o a e o a a a a a a a a e o o perchè no che non ti metto taglierò o dico il cane il cane che palle il cane allora ma è un nuovo che cazzo ecco che che ho preso che vabbè che classe hai preso quella del diavola scelta mi sa la città vabbè non fa niente va bene comunque sei 14 vabbè rega prendetelo per quello che è non è per il commentary quindi a questo punto io direi di cominciare a fare di più moglioni uo e ha ha no io non faccio il bauauauau io sono un tipo molto serio e ora farò una cam lo giuro lo giuro capiteci perché notte e vogliamo andare a dormire però non so perché noi vogliamo andare a dormire però facciamo i video perché non si vedono perché non si vedono madonna lezza 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 dove sta dove sta col figlio di troia dove sta là questa è troia oh sotto guai che ce la vuole fa ma vuole mamma mia perchè è così idiota sto gioco cioè è normale che se mi abbasso e c'è sta un cosa davanti io voglio accortellare no? devo pure abbassare di sole non ho parole ah premetto che come ho detto sull'ultimo video io non gioco a code da una cifra di tempo mamma mia questo ancora sta col cane e quindi faccio calcare a prescindere anche perché io non ho code dai non mi dico come fai a non passarcela in mezzo bella ragazzi sono ghostfrog aspetta posso fare quei imitazioni su tutti i youtube no no? no tanto la farei uguale io allora chi fa che imito? mortacci tua chi fa che imito? zembe ma tu no la cazzo ma lì c'è mille mele su vai yuk e chi te lo chi? e la piccichicchiamo qui? adesso non si può sentire yuk no muo fammi oh porca puttana chi? sto cazzo cani e povci cani e povci cani e povci vabbè non è uno youtuber lui cani e povci cani e povci cani e povci porco mi sbaglio qui in diretta basta fammi imitazione di breve bella ragazzi sto stossiclando no dai cristo questa è la mia bifanzo oh sto in serie arigaston appia all'amica mio quella è quella che gli viene meglio wow quanto è buono a me di pre ma adesso sono gato a fapo no non è così lo so ragazzi sta vabbè sono bravissimo a limitare le persone a parte dato grande mamma mia mamma mia ahhh questi bug ahhh questi bug ahhh questi bug basta il taccio dai cristo dio non potete far fuoco incrociato lui è stato in guerra davvero bam come una gazzella come una che? una gazzella che ne so la gazzella dello sport sono leggiadro come Godstruck eh? l'hai capita? no cioè si l'ho sentita ma l'ho cercato di evitarla ma complimenti in grande anticipato vai a vengare da morire da morire aspetta 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 cristo dai mamma mia i bug i bug ahhh questi bug ahhh questi bug ahhh questi bug aspetta 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 vino aspetta sei rob chi ti sei il culo guardalo ciao ciao rob ma no ma non me lo puoi inculare così rob non è morto aspetta 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 ero forte a quei tempi era forte a quei tempi tu sei roba che nome di merda palle d'orso fritto e uoooooooh illidiotta pal buziente vabbe con che raga se volemmo fargli vedere un video se no non col diz gli manderamo al li un link di descrizione con i ragazzi di paglia mangiano paglia no col diz è un genio come hai capito questo commento è abbastanza molto molto random aaaah kanje poci kanje poci kanje poci kanje poci no col diz Che cazzo sto dire Non ho detto Ti diciamo le prime cose Che ci danno in mente No No Mamma mia Si ammazza pure questo Ti fa la double feed Ebbè La double feed Ebbè Ebbè Bello Di paglia mangiano paglia Dove gli uomini di paglia Mangiano paglia Come va paglia Bella zio Oh Anche tu Bella zio Guardalo Guardalo Qua sotto C'era il satcom Maverick Cazzo fai Cazzo fai Dai che non l'hai perso Ma che Ma che Ma Ma che Ma 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 maverick Ma maverick non era un fucile da cecchino E sia cecchino che assalto Rifle Ma che merda Dai zio Non puoi morire così Madonna Dai zio Sono sempre Io Sono sempre fatto Di maria Ma perché Perché devi dire queste cose Già andasse voce C'era di voi cadaveri che piove 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 Momofilm Vabbè Poi le pulpette Sono i cadaveri Che diventano Molpezzo Che cazzo sei Dio Sono sempre io Mannaggia la madonna Vabbè ragazzi dopo il commentary più random della storia di youtube Senza un filologico Senza un senso Noi ci becchiamo alla prossima Bella Ciao Noi ci becchiamo alla prossima Ciao Ciao